Per me è stato un piacere di arrivare in rosso e nero, poi abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio di stagione, però siamo riusciti a tornare bene in campionato, anche se l'ultima partita abbiamo sbagliato. Adesso dobbiamo essere concentrati e ricominciare la seconda parte della stagione come abbiamo finito la prima parte. Sono contento da quello che ho fatto fino adesso, anche se sono sicuro che posso dare ancora di più e infatti dovrò lavorare ancora di più all'elemento per fare partita di alto livello in campionato. Per me la cosa più importante è l'obiettivo collettivo, poi in seconda parte sicuramente io vorrei rimanere al Milan, però come ho detto queste cose si discutono tra le società e io cerco di dare tutto quello che ho, speriamo di finire tra i tre primi del campionato e poi vedremo cosa succederà. No, non ne abbiamo parlate nel spogliatoio, non ne parliamo perché noi dobbiamo essere concentrati sulla squadra. Poi è vero che sentiamo tutti che magari vanno via, rimangono, non lo sappiamo, ma la cosa più importante è che se loro due rimangono al Milan dovranno dare il 100% e nel caso loro vorrebbero andare allora noi continueremo senza di loro e dovremmo fare il tutto per raggiungere l'obiettivo della società. Grazie a tutti.